il mio avviso si prende questa che no deve portare un audio si lascia usare l'acqua c'è una scelta di guerra ahahah a me ahahah Che stai risando? I cannerotti? No, i cannerotti non mi preoccupare nemmeno. La sapetta è fresca. Tu spada eh? Stai io? Ma ieri si è traccato il primo pezzo. Siete tosti? Siete respanti? Invece magari la rocca deve aprire ora. Sono tutti i romani che lavorano giù. E vanno a dormire sopra. Infatti credi dove arrivi? No, ma sicuramente l'ha fatto richiesta al sindaco. Mi credo di dire, no. Questa è una delle più coppite. C'è tante. Pure da... C'è una scelta che si spara la baracca dell'anno. Questa qui la porta, ieri. Qui a casa sono messi i puntelli. Oh, senza roba. Sì. Sì. Faccio la baracca. Sì. C'è? Ficcio la baracca. V-a zonato? Sì. Dup' a zonato. Sì. Sì. Dup' a zonato. Dup' a zonato. Bari, a zonato. Dup' a zonato. A zonato. una cartina ma le canzze della televisione ma le canzze della televisione non si sono sbatti i denti prima carica la segretaria comunale se non deve andare io ho detto che scende con quant'anni fa grazie